Attenzione, è in funzione a un dispositivo... Ma papà, sei felice? Si, è beato te che sei felice. Ma che fai pure lo spiritoso? Tu, piuttosto, ma hai studiato? Ho studiato, ho studiato. Ho un cavallo, ma invece di farmi male il culo mi fa male la capoccia. Va bene, ma qui bisogna decidere, il cavallo è sicuro da giocare a Gnano. Pensaci. Ce l'hai sto cavallo? Cavallo? Eh, il cavallo ce sta, sono i sordi che mancano. E voi quanto avete rimediato? Stiamo facendo un carosello con mandrake. Eh, una figurazione speciale, danno 100.000 lire. Carosello 22esima. Azione! Patente, per favore. Non ce l'ho, la patente non ce l'ho. È un grosso rischio. Si, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69. E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio. È un vischio maschio senza fischio. No, stop! La rifaccio da capo. È un rischio maschio senza whisky. Stop! Stop! Che era che era? Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisci? Sì, 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 com'era? Allora, un whisky maschio senza rischio. Senza rischio! Non c'è, adesso mi ricordo. Un whisky maschio senza rischio. Sì, sì, è vero. Possiamo farne un'altra? Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso? Perfetta, Iavaccio. La patente, per favore. No, la patente non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69. Che fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza maschio. Stop! È un whisky fischio senza maschio. Stop! È un teschio maschio senza fischio. Stop! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio. Nemmeno! Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto queste battute. Come si fa a dire? Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso più. Ma se posso sapere chi ce l'ha portato, sto cane? Io non ne so, c'è pure il segretario, non ne so niente. Allora, che ce ne viva pure lui. Basta, pausa. Un caschio. Eh, va bene. Ma andrà anche sempre fa queste figuracce. No, guarda, tu la figuraccia la fai comunque come essi da casa, hai capito? E poi ricordate una cosa, il regista ha sempre rovinato l'attore, sempre. Però io gli ho dico in faccia, non è che glielo vanno a dirlo, sentite? Sì, va bene, intanto oggi non ci pagano. E i soldi per l'andagnano, bye bye, come non detto. Vatta a sfogliare, va? Vatta a sfogliare, i soldi per l'andagnano. Io mo' non solo non me sfoglio, ma adesso mandra che ti fa pure vedere come si rimediano i soldi. E come una guardia finta diventa una guardia vera. E mo' che so' fatto? Patente e libretto d'assicurazione, concilia? Ma che tengo da conciliare? Io stavo andando gianne gianne, tranquillo, tranquillo. Ha detto concilia? Ma concilia che? Si stava andando gianne gianne. Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale BZA dibito al traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali e contraveniva più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare. Non mo' far resta', pago subito.